Gli ST Open Days sono un momento in cui l'azienda incontra alcuni degli studenti delle 5 università siciliane calabresi, quindi l'Università di Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cosenza. In questa occasione gli studenti hanno la possibilità di conoscere la realtà aziendale e l'azienda, noi riusciamo a conoscere i nuovi studenti che hanno realizzato negli ultimi mesi dei progetti tecnologici. Gli ST Open Days si svolgono durante l'arco di 5-6 mesi. Iniziano nel periodo di aprile-maggio, periodo durante il quale noi come dipendenti ST andiamo ad incontrare gli studenti presso i loro atenei. Presentiamo il progetto ST Open Days e come si svolge. Dopodiché i ragazzi interessati possono presentare la loro candidatura ai loro docenti di riferimento che ci indicheranno quali sono i ragazzi, quali sono i progetti e cosa serve ai ragazzi per sviluppare il loro progetto. Negli ultimi giorni di settembre invece avviene l'evento vero e proprio qui nel sito di Catania dove i ragazzi hanno la possibilità di presentare quello che hanno sviluppato negli ultimi tre mesi. Grazie a tutti.